Miss Circle è scesa dallo scivolo più pericoloso del mondo. Devo provare questa scivola. Aspetta, sono bloccato. Per favore non andare. Vado fratello. No. Oh no, lo sento. Farà male. Oh pipì, sto aspettando mio fratello adesso. Forse è bloccato anche lui. Fratello, yes. No, 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 no. Ma. Fratello, no. Era colpa di questa scivola. Sì, lo stiamo chiudendo. Era troppo pericoloso. Sono triste e solo. Bambini, volete giocare? Cosa? No, noi ti odiamo. Tuo fratello è stato posseduto. Come osate? Venite con me. No, questo è proibito. Ah. Sì. Ah. Un cosa? È morto. OMG, devo provarlo di nuovo. Ok, andiamo. Cosa sta succedendo? Devo correre veloce. Ehi ragazzi, volete provare la nuova scivola? Venite veloci. Devo vedere cosa sta succedendo. Five hours later. Aiutaci. Aiutaci gatto. OMG ok. No. Li ha distrutti. Devo fare qualcosa. Facciamo il peggio. Prendendo la direzione sbagliata. Perché sono così piccolo? Aspetta. Non ha fine. Non posso. Aspetta. Non posso. Cosa è successo? Chi ha chiuso questo? Questo non è normale. Devo chiamare la polizia. Adesso. Aspetta chi è quello. Per favore aiuto. Um. Dove sono? Nessuna via d'uscita. Devi scivolare. Ma. Devo scivolare? Questa è la punizione per chi va dalla parte sbagliata. Devo scivolare. Questa è una scivola prebita OMG. Spero di sopravvivere. Metti a mi piace e a iscriviti se non vuoi scivolare su questo. Spero di sopravvivere. Le mie ossa. Sono tornato. La scivola. È normale. E cosa è questo? OMG. Devo fare pipì. Veloce. Sono in sedia a rotelle. We do not care! I'm joking! Ow! Fuck! Ah! Devo provare un modo diverso. Ah. Prossima prova. Taxi. Ah. Hey yo! What the? Max. Ok, questo è troppo. Bomb has been planted. Bello. Un. Cosa è successo? È troppo. Non posso rischiare la mia famiglia. Chi sei? Devi aiutare fratello. No, non aiutarlo. Um. Fight threat! Fight threat! Stanno combattendo LOL. Scelgo di aiutare il fratello. Cosa è questo? Devo entrare. Um. Dove sono? questo è inquietante. Ah. Devo correre. Non entrare. OMG cosa ho appena fatto. È tutto per il mio fratello. Devo correre. Oh no. sono troppo piccolo. Sono troppo piccolo. Oh mio dio. Dove sono? Devo ucciderne uno. Per favore non uccidermi. Ero povero e nessuno mi voleva. Non uccidermi. Ti amerò. Eyo! What the? You picked the wrong house. Boom! Ah. Se scegliessi lui sarebbe male. Tubes versus bambino. Bello. Ti darò robots. Um. Bello. Ti farò ridere. Ah. Wow. Questa scivolata è spaventosa. Cosa dovrei scegliere? Wow. Squid Game. Ci piace. Sono morti. Denaro o bambino? Denaro. Sto scherzando. Cane o gatto? Gomma da masticare o exe? Cosa è? Um. Cosa? Pippi o cacca? Ha? Iai. Ce l'ho fatta. Raccogli tutte le chiavi per aprire il cervello. Penso che ci sia il mio fratello. Devo raccogliere le chiavi. Ma dove? Voglio hackerare tutti. Voglio essere il miglior hacker. E voglio stare con Roblox. Wow. Questo è il cervello di Jenna. E la chiave. Prima chiave. Amo mangiare la pancetta. Voglio stare con Jenna. Voglio riavere la mia famiglia. In realtà sono buono. Non sono una persona cattiva. Wow. Tu best è carino. Ho fatto la zuppa per te. Sì. Ume. Grazie. Voglio essere ricchissimo. Voglio bandire PopTech da Roblox. Voglio uccidere tutti gli hacker. Lei è mia moglie. Bello. Oh mio dio. Sono nel cervello di Roblox. Spero che mi dia StarCode. Oh, ciao. Dove è la chiave? Grazie. Ok, posso uscire adesso. Andiamo ancora. Cosa è successo a questa diapositiva? I bambini vanno via. I bambini vanno via. Ok. Aspettiamo la notte. Ok. Andiamo. Oh mio dio. È vivo. Sentiamo. Sono spaventato. Aspetta. Vedo qualcuno. È Jenna. Questo è inquietante. Mr. Beast. Jenna. Perché? Fratello, guardati dietro. Cosa? Non può essere vero. Dove siamo? Corriamo. Devo trovare una via d'uscita. Ok. Finalmente. Abbiamo trovato una via d'uscita. Ma ora dobbiamo distruggere questo. Sì. Questa è una bomba. Sai cosa fare? 5, 4, 3, 2, 1. Vai. OMG. Ce l'abbiamo fatta. Cosa è successo alla mia scivolata? Cosa? Hai costruito questo? Sì. E ti distruggerò? Quindi? Yai ce l'abbiamo fatta. Viene lui. Ciao. Cosa è questo? Perché è così piccolo? È più piccolo degli altri bambini. Cosa? Ma forte. Cosa hai fatto? Dobbiamo allungarti. Non fare questo. E ora sono ancora più piccolo. Non preoccuparti. Figlio. Ecco la tua stanza. Wow wow. È Pip. Non lo merita. La mia stanza. Te che? Mi dispiace figlio. Ho ristrutturato la tua stanza. Che cosa? Questo è troppo alto per me. Il giorno dopo. Wow. Questa scivola è davvero pericolosa. Mi dispiace. Primo. Sei bravo. È il mio turno. Sei troppo piccolo. Cosa? È il mio turno. Sono bravo. Ehi. Non è giusto mamma. Oh. Ho paura. Ti aiuterò. Ah. Sorella. Com'è stato? M. Ha perso le gambe. Cosa hai fatto? Mi dispiace. Punizione. È troppo. Non sarò mai professionista. Mia madre mi odia. Diventerai alto. Il giorno dopo. Aspetta. Mi sento più alto. Cosa è successo? Mamma e papà. Guardami. Non mi importa. Posso partecipare a una corsa? Sì. Oh sì. Inizia. Wow. Sono così veloce. Cosa? Per te. Wow. A. Per te. Mamma. Ho preso dieci volte A. Wow. E ho preso F. A. È giusto. A causa di Popcat. Cosa? Aiutami. Nel frattempo. Mi affogherò qui. Aspetta. Sono uscito. E sono ancora più alto. Ah. Sono davvero arrabbiato. Nascondiglio. Li sento. Ciao mamma. Ah. Dov'è lei? Addio mamma. Addio mamma. Vendetta per il passato A. Cosa hai fatto? È troppo. Oh me. Mi sento male. Questa è la ragazza più alta del mondo. Non sarò mai alto come lei. Aspetta. Se vuoi essere più alto salta sopra questo. Cosa? Ci proverò. Nonna. L'ho fatto. Wow. Ora salta sopra questo. Ok. Hai bisogno di motivazione. Wow wow. Wow. Sono così alto. Ah. Salta sopra questo. Difficile per me. L'ho fatto. Non può essere così. Distruggilo ragazzo. Oh no. Salto. Stanno arrivando. L'ho fatto. Ah. Un abbonamento e un mi piace equivale a una ossa per me. Per favore. Non riesco. Stanno arrivando. No. Stanno sparando. No. No. Stanno sparando. Questo è difficile. Ah. L'ho fatto. L'hanno colpito. Salta. Salto successivo. Ah. E' l'ultimo. Salto. Sono così grande Oh, cosa vedo? Chi è la persona più alta del mondo? Ho vinto Non c'è molto Ah Cosa? Sì A-G-R Non mi batterai mai Cosa hai detto? Hai vinto Cosa hai fatto? Ora lei è la più alta Sono così triste Sei così piccolo Quindi resterai lì per dieci anni No, non per dieci anni Dieci anni dopo Sono cresciuto così tanto aiutami Ho perso la mia altezza Prendi questa pozione mamma gambe lunghe Ho bisogno della tua altezza Ho bisogno della tua altezza Ora Hai preso la nostra altezza È ora di uscire O-M-G Cos'è quello? Devo colpirla Prossimo tentativo Pozioni elicottero Sono sulla sua testa Smetti di crescere Proprio adesso O-M-G Ho perso tutto Ho perso tutto Distruggerai il mondo Ehi povero Ehi povero Sei cattiva Aiutami Vieni qui Sto crescendo Ehi fratello Lasciami in pace Ah Perdente Addio Salto successivo Wow Prossimo aggiornamento Non riesco Questo è troppo difficile Non posso Sapevo che non ce l'avresti fatta Sono arrabbiato L'ho fatto Ultimo salto Ultimo salto Vincerò No Lo farò io Andiamo Ehi Ora è difficile Posso volare Chi ha Ah È finita Lo scivolo è aperto Evviva Skibi Sono pronto Vai Sono bloccato O-M-G Mamma mia Più veloce Lo farò Sono bloccato Di nuovo Non scivolare Per favore Penso che abbia scivolato È il mio turno Perché mi hai fatto Questo fratello Non meriti Questo scivolo Vai allo scivolo Da un dollaro Ok ragazzi Devo fare soldi Scivolando un dollaro Io per primo È il mio turno Mio dio Strana Ce l'ho fatta E ho preso un dollaro Prossimo scivolo Per dieci dollari Perché qualcuno Ha fatto la cacca qui Posso scivolare Certo Non sembra sicuro Ma proviamo Ce l'ho fatta È ora di chiudere La piscina Fratello Cosa stai facendo Fermati Fermati Non riesco a uscire O mi sono svegliato Per favore Non andare sullo scivolo Una volta ho messo Il mio bambino Lì dentro Non parlare E prendilo Oh no Cosa ti è successo Non ci importa Scivoleremo Mamma mia Che colpo di scena Cosa ci è successo OMG Questa diapositiva È pazzesca Ok tocca a me Ehi muoviti Sono il primo Ok andiamo Aspetta Cos'è questo Mi ha morso Aspetta Sto cambiando Aiuto Chainsaw Man Prendilo Aspetta cosa Non sono l'uomo motosega Lasciami in pace Incredibile Sono in prigione E non riesco a trovare Il prossimo scivolo Aspetta Popcat Qualcuno ti ha lasciato Questi regali Probabilmente Dalla mia nonna Un piccone Wow ti amo nonna Fuggiamo da qui OM Woof Meow Jump scale Cosa Ume dove sono Ume cosa vuoi da me Jump scale Prossimo tentativo TNT lascialo cadere Oh my god Um Um mi dispiace Ultima torta Pozione mio dio Prendila Lascia che prenda queste chiavi ora Ah facile Allo scivolo Veloce Prendilo Prendilo Apri veloce Fatto Non possono prendermi Aiutami steve Sono bloccato Aspetta che diavolo Dove sono C'è più gente che scivola Aia Cosa è appena successo Comunque a 1111 dollari andiamo Andiamo uno scivolo per 10.000 dollari O ti distruggerò Mai Sono bloccato Lo eliminerò Stai per scivolare Ehi sono incinta Lasciami in pace Lasciateci in pace OMG ce l'ho fatta OMG è morta E per 100.000 scivoli È lo scivolo più spaventoso del mondo Sono la prima Era troppo spaventoso Ok è il mio turno ho paura Lasciami in pace Ome Per favore non picchiarmi Cos'è questo? O no Un'umaca Ce l'ho fatta Questo è uno scivolo per un milione di dollari Non sembra così male Ci proverò OMG aspetta Abbattilo È tossico Mio dio Jenna Sei spaventato? No no lo sono Ok facciamolo Oh dove sono? Sento che qualcuno mi sta guardando Ome Noob Ce l'ho fatta Ma dove è Jenna? Oh bello L'ho fatto Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per sempre Scivolo per 10 milioni di dollari Sarà facile Se ci fosse qualcuno per testarlo per noi Lascia che lo faccia per te Non scivolerò qui Lo farai Sono cacca È il mio turno Tempo per il prossimo scivolo Per 100 milioni di dollari Sto entrando Controlla la tua altezza Non puoi entrare AM Allungami Va bene dolce Mamma mia sei a posto Devo entrare Ehi Facile È solo abilità Tu vai per primo Facile È il mio turno Abbi pietà di me O no O no Si muove Scivolo per un migliato Sono un 1% sopravvive qui Io sono il primo OMG È stato così vicino Aiutami È stato così vicino Ce l'ho fatta Sono migliardario ora Ah È il mio turno No Non ce l'ho fatta È ora di vendetta Di notte È ora di vendicarsi Ehi dove sono? Ti farò fuori tu e te Squalo Sì Impossibile Ciao O dove sono? Tua sorella è malvagia Lo so Civolo per 10 miliardi di dollari Morirai Popcat Ah Noob Steve prova per primo Ok Le mie ossa Non scivolerò normalmente Salto con l'auto Vai L'ho fatto ma fa male Come hai fatto? Stiamo andando per di più Come? Questo è lo scivolo più pericoloso del mondo Spero che non sopravviva Mamma mia Cos'è questo? Vai per primo Cosa? Noob No L'ho fatto Sono migliardario Ho 100 miliardi di dollari Stai andando con me Cosa? Aspetta Mio dio Jenna è morta Oh sì Pumme Sono tornato per vendicarmi di Popcat Cosa sta succedendo? Questo scivolo è troppo grande Cosa? Non riesco nemmeno a vedere la terra Questo è per un trilione Non puoi farlo noob Lo farò Andiamo Mio dio È troppo grande Sono rimasto bloccato Bologna Brutto Bologna Bene Bologna 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 L'ho fatto! No, no, no! È impossibile! Come hai fatto? Ah, è ora dell'ultimo scivolo! Non sopravviverai a quello! Oh no! Dove sono? È l'ultimo scivolo! Oh, Dio! Ok, andiamo! Questo scivolo è sicuro? Sì! Andai! Ah, sono bloccato, aiutatemi! Scivola più veloce, noob! Non! Non c'è modo! Sono di nuovo bloccato! Penso che dovresti chiudere questa diapositiva! U.M. va bene! Ehi, ma sono ancora qui! Cosa è successo perché nessuno sta scivolando? Cento anni dopo! Sono passati cento anni e lo scivolo sta per essere riaperto! Evviva lo scivolo! Lasciami stare qui! Pronti? Aspetta, c'è qualcuno laggiù! Chi è questo? Siamo bloccati! Tocca a te! Cederò il mio posto in fila a quelle persone grazie a... Grazie! Grazie! Facciamo scivolare tre persone alla volta! Aspetta cosa! Sono di nuovo bloccato! Oh no, mi sono caduti addosso! Fantastico! Bob il ciccione vieni qui! Sì! Diapositiva! Va bene! Aspetta cosa! A perdente! Vai sullo scivolo per dieci centesimi noob! Sono così arrabbiato! Devo dimostrare al bullo che sono un cursore migliore su questo scivolo da 0,1 dollari! Sono il primo! Aiuto! La sua sabbia veloce! OMG! È il mio turno! Andiamo! Sabbia veloce! Fratello! Ciao! Va bene! La prossima diapositiva è per un dollaro! Togliti di mezzo! È a morta? No! È il mio turno! Sono avvelenato! Questo scivolo è così povero! Ho fatto i soldi così ora posso comprare! Culo! Questo lo prendo io! Bello! Ho bisogno di fare soldi per avere questo! La prossima diapositiva per un dollaro! Sono più veloce! Proprio sulla cacca! Drew! Prossimo scivolo! Fa male! Scivolo tre in una volta! Ehi! Fermati! La prossima! L'ultimo! Compriamo un nuovo sedere! Bello è! La prossima diapositiva è per 10 dollari! Aspetta! Chi è questo? Come sei arrivato qui! Ti scaricherò! Non! Così vicino! Fratello! Aiutami! OMG! Perché c'è uno squalo? OMG! Non c'è modo! L'ho fatto! Aspetta! Perché hai fatto la cacca in piscina? Schidibi dopo! Drew! Il mio saldo 10 dollari! Fammi comprare il prossimo aggiornamento! Wow! Sono più veloce ora! Oh mio Dio! Scivolo per 99 dollari! Ragazzi scivoliamo! Ah cosa ci è successo? OMG non voglio scivolare da qui! Perdente! Scivolerò! Cosa mi è successo? Oh no! È il mio turno! Ume dove sono? Devo correre! OMG! Ce l'ho fatta! Ho 99 dollari! Facciamo più soldi! Non c'è modo! Salti di gioia! Oh mio Dio galassia! Aggiornamento! Wow! Sono troppo scivoloso! Ora devo guadagnare 1000 dollari! Quindi questo è uno scivolo per 1000 dollari! Andiamo! Un me! Cosa ci fai in prigione? Cosa stai facendo in prigione noob? Un me! Io friggati a... Scelgo quello blu-gring! Wow! Adoro questa diapositiva e ho guadagnato 1000 dollari! 1000 dollari spesi bene! Aspetta! Non può essere così! Dove sono? Su uno scivolo mortale per 10.000 dollari! Posso farlo! Va bene! Aspetta! Non... Cosa? Cosa? L'ho fatto! Cosa ci fai nella mia piscina? Corrono! Ora scivola! Scivolo veloce! Lufo! Ouch! Quasi in piscina! Va bene il prossimo scivolo per 100.000 dollari! Nell'acquario! Andiamo via! L'acquario è rotto! Ragazzi abbonatevi perché su 2.000.000 di abbonati farò la rivelazione del volto! Alla diapositiva veloce! Ah! Non non! Oh mio Dio! Perché questo vetro è così lungo? Sì! Ah! Ma ce l'ho fatta! Saldo 110.098 dollari! Ora posso comprare! Estremamente! Ricco! Aggiornamento! Andiamo! Velocissimo! Scivolo per un milione di dollari! Sembra un dollaro! Oh ti sbagli sarà super spaventoso! Non credo proprio! Ume! Vuoi ucciderci? Sì perché siete studenti cattivi! No! Oh no! Ume! Saltali addosso! No! Oh mio Dio! Ume! Motosedia! Mi hanno tagliato! Un mercoledì! Che bello! E il gatto con gli stivali! Va bene! Sono uscito! Aveva ragione! Questo scivolo era pazzesco! Saldo di un milione di dollari! Va bene il prossimo scivolo per 5 milioni di dollari! Sembra sicuro! Ma aspetta! Sei stato arrestato per aver distrutto degli scivoli! Cosa? Fratello? Sono! In prigione! Ciao! Ume ciao! Sei bella! Prendi questo! Torta OMG! Torta con chiave andiamo! Scappiamo via! Aspetta! Dov'è la mia chiave? Non sono un antico! Nun! Nun! Su! La polizia scivola per 5 milioni! Devo scappare! Nun! Ce l'ho fatta! Va bene! Torniamo allo scivolo da 5 milioni di dollari! Oh! Dove sono? Chi sei? Cosa stai facendo sulle nostre diapositive? Cosa? È di tutti! No! Nun! Lasciatemi solo! Lasciatemi solo! Lasciatemi solo! Lasciatemi solo! Andiamo più in fetta! Andiamo più in fetta! Aiuto! Aiuto! Oh! Ce l'ho fatta! Saldo 12 milioni di dollari! Ragazzi e benvenuti! Nella mia vita dopo aver avuto 12 milioni di dollari ho comprato casa! Non per molto! Fuoco! Che cosa hai fatto? Fermarsi! Lo farò! Se mi vincete in una gara a scorrimento! Eliminarmi! A fare! Prima scivolata per 100 milioni! Devi saltare in piscina! Vai tu per primo! Andare! Penso che sia morto! Tocca a me! Oh yeah baby! Va bene! Andiamo! Rischioso! OMG! I sopravvissuti! Saldo di 102 milioni di dollari! Va bene dopo essere scivolato da qui diventerò miliardario e così stressante! Esci dalla strada! Va bene! Non importa! Penso che sia arrivato il momento! Aspetta! Un me! Fratello? Ho finito con te! O non! Devo prenderlo! Devo prenderlo! O NG! Saldo 1,1 miliardi di dollari! Dammi i tuoi figli! Nu! Lo sento! Il giorno dopo! Finalmente ti ho trovato! E ragazzo! Ti adotterò! Ti adotterò! Misuriamo! Sei quasi come una modella! Faremo un sacco di soldi da te! Guarda cosa ho trovato! Cos'è questo? Non riesco a respirare! Prenditi cura di lui! Sorella! Ti odio! Cosa? Sono nella sabbia! Aiuto! Questo? No! Per favore! È il mio incubo! Ciao! È troppo! No! Per favore! Nu! Non sarai mai alto come me! Non so nuotare! Tocco a me! Aiutami! Non ho ossigeno! Oh my God! Lo squalo sta arrivando! Dove è mio figlio? Basso Nubo! Dobbiamo fare un'operazione in fretta! Morirà! Non mollare! Stanno facendo l'operazione! Cos'è questo? Blue! Wow! Spaventoso o carino? Carino! Oh no no no! Sono spaventoso e brutto! Sta morendo! Magro o grasso? Magro! Lingua lunga! Guarda mi sto peggiorando! Denti paurosi! Bello! Calvo! Ochi! Un occhio! Sembro disgustoso! Mamma sono tornato! Stai diventando più alto! Stai diventando più alto! Quasi morto! Misurati! Oh my God! Oh no! Sei brutto! Cinque anni! Ah sono vecchio! Tempo di trollare! Happy! Il prossimo è l'orso! Oh my God! Cosa è successo? Sentò qualcuno! Oh no! Mi dispiace! Stai andando al riformatorio! No per favore sorella! Ah ciao! Sfigato! Mio Dio non sembra male! Ah così debole! Oh my God! Forse no! Ciao! Sfigato! Sfigato! Oh no! Ah! Get over here! And coming! Non so nuotare! Aiuto! Ti annegheremo! Oh no! Em dove sono? Stanze nascoste? Mio Dio! Devo nascondermi! Tempo di mangiare! No! Em! Devo uscire! Mangiami sono debole comunque! Non posso aiutarti! Cosa? Sei tornato? Sì! Iscriviti e metti mi piace se vuoi Robux gratis! No! God! No! Meanwhile... Torneo per il miglior modello! Oh my God! Non può essere così! Ah perdenti! Adesso mamma! Ah! Ho vinto! Beh! Uff! Salta oltre questo per essere più alto! Sì! Oh my God! Ero! Ah! Andiamo! Wow! Bello! Bello! Wow wow wow! Cosa sta facendo? Non può essere così! Ragazzi andiamo! Vieni qui! Sarò più alto di te! Arg no! Ah hai perso il razzo! E' pazza! Nu capo! Ah! Non mollare Popcat! Va bene capo! Oh my God! Nu! Ah! Andiamo! Cos'è questo? Oh! Oh my God! Ah! L'ultimo! Oh my God! Nani? Ah! Wow! Sorella dove sei? Ah! Perché? Ah! Non può essere così? 15 anni! Ho perso le gambe! Sei ancora piccolo! Ma ero alto! Sta mentendo! Nu non lo sono! Stai andando in prigione! Non ti vogliamo più! Torna se sei più alto! No per favore! Piccolo prigioniero! Nu! 25 anni! Non mi batterai mai! Piccolo! Piccolo! Facciamo un torneo! Ok! Tempo di saltare! Prima bene! Oh my God! Ah! Sono più alto di te! Cosa? Cos'è questo? Oh my God! Oh no! Yes! Cos'è questo? Questo torneo è solo per quattro persone! Ciao! Wait a minute! Ehi! Abbarata! Non mi interessa! Inizio! L'ho preso! Ehi! 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 Ah! Prossimo difficile! Prima io! Ah! Ora cosa? Cosa? Grazie per il busto! Oh my God! Superare la linea! Attraversare la linea! No! Ho vinto! Ah! Cosa? Perché? Non ci posso credere! Non può essere così! Oh no! L'ho ucciso! Dove sono? Dio! Oh! Ciao Popka! Oh mio Dio ciao! Stava aiutando la madre malata! Ha mangiato il suo migliore amico! Questo secondo non è quello che pensi! Era un bullo! Ok! Prendi il mio potere! Sono fuori! Grazie! Primo! Vediamo cosa hai fatto! Si prendeva cura di sua madre! Wow! È bello! Aveva poteri speciali! Anche questo è bello davvero! Grazie! Stava tirando i bambini nella bocca d'aerazione! Mangiava bambini grassi! Oh no no no! Male! Vai qui! Prossimo! Tipo Verdei! Ehi! Catturava e mangiava bambini! Era troppo alto e colpiva lo stipite della porta! Distruggeva tutti i giocatoli! Si innamorava di mamma gambe lunghe! Wow quest'ultimo! Strano davvero davvero! Era cieco! Quindi non mi vedi? Sì! Vai qui non posso metterti nel rosso! Ehi è rosso! Non vedo! No! Dai! Ultimo! Il mio allenatore! Ciao per favore paradiso! Amava i cani! Era il più veloce del mondo! Rubava scarpe e ci metteva del TNT! Ehi! È male! Mangiava i partecipanti per vincere nelle competizioni di corsa! Anche questo è male! Amava i giocatoli! Devo mandarti in paradiso! Grazie! No ero cattivo! Tu sei il mio allenatore! Ma ero cattivo! Non farlo! Non farlo! Qui è il mio posto! È stato triste! Ma l'ha fatto per il bene! Ciao amico! Aspetta un attimo! Scegli uno! Voglio il verde! Andiamo! Scivolo! Divertiti a... Dove sono? Faccia da anatra o piccoli? Oh no! Odio i cetrioli sott'aceto! Non è divertente! Inferno o alto? Alto! Non è buono! Vecchio o giovane? Giovane! Sono un brutto bambino! Sbalzo! Sono troppo spaventoso! Fuoco o essere buono? Buono! No! Voglio essere buono colpa mia! Non cattivo! Cosa mi hai fatto? Hell no! Ah! Questo è solo il tuo primo livello! Fammi entrare! Vai! Fratelli! Fratello! 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 Mi avete lasciato prima del tempo per la punizione! Ragazzi! Volete scivolare? Come cosa? Questo non sembra buono! Non mi interessa! No! Ah! Dove sono? Slime! Oh no! Dell'acqua in bocca! Oh hell! Sono la regina! Blu o verde? 100% blu! Oh my god! Wow! Sembro blu! Grande o piccolo? Grande! Nessuna differenza! Pericoloso o no? Pericoloso! Non voglio sembrare così! Carino o brutto? Brutto! Carino! Tempo di teletrasporto! Sì! Shrek! Denti di squalo! Arancione o senza occhi? 100% arancione! Aiutami! La mia testa! Mani di Gekko! O faccia spaventosa! Gekko! Abbaio! Lava o acqua? Lava! Ok! Sembro spaventoso! Roblox o mani? Mani! Oh my god! Wow! Wow! Grassoccio o magro? Cosa è questo? No! Occhi grandi! I miei occhi vedono tutto! Oh my god! Viola o blu? Viola! Mi piace! Mani lunghe! E gambe lunghe! Ok! L'ultimo! Vivi nelle fogne o in un McDonald's? Fonno! Andiamo! Oh no! Ci ha cambiato per sempre! Mamma! Mamma! Oddio! Che cos'è questo? Ci cambia! Sì! Sembri brutto! Dove sono i nostri figli? Dieci anni dopo! Primo giorno di scuola! Ah! Sembrano strani! Oh oh oh! Cosa? No per favore! Per favore no! 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 Per favore! È ora di passare al secondo livello AA! Andiamo! Sento qualcosa! A ora che! Wow! È stato pazzesco! Dobbiamo arrivare al livello successivo! Aspetta! Se volete il prossimo livello dovete trovare le porte! Oddio! Lo troverò io per primo! Eccoli qui! Entriamo! Sto avendo problemi! È stata una cattiva idea! Muscoli grandi o capelli di Chad? Muscoli! Gambe lunghe o testa grande? Gambe lunghe! Forte! Forte! Sono troppo grande! Essere un giga Chad o avere la mano più grande? Gigachad! Aiutami! Denti affilati o grasso? Sono troppo forte! Devo essere grasso! Grande cervello! Sono in forma! È il mio turno! Penso che sia qui da qualche parte! Mi dispiace! Eccoli qui! Aspetta! Questi non sono i miei! Muoviti dal mio cammino! Tempo di entrare! Eccoli qui! Oh no! È ora di entrare! Sono pronto! Ah sei l'unico noob che non ha avuto l'evoluzione! Non riesco a trovarlo! Meglio fare presto! Agli fratelli! Aspetta vedo! Eccoli qui! Ah ora che! Metti mi piace e iscriviti e domani ti sveglierai con così tanti robux! Oh no! Oh no! Oh no! Ehi! Cosa sta succedendo? Insegnante! Mi dispiace! Vieni alla lezione! Adesso! Ok! Ti diamo A e o ti caccio dalla scuola! Figlio! Vieni prima! Ciao papà! Era estremamente intelligente! Odiava gli studenti stupidi! Are you serious right now? Figliolo! Chi pensi che sia stupido? Loro! Bravo ragazzo! A e! Amava suo padre perché gli dava A e tutti i giorni! Questo è così dolce! Prendi questo A e! Grazie papà! È stato trattato meglio perché suo padre è un insegnante! Non è vero! Io ti tratto allo stesso modo! A e! Ok! È il momento della parte negativa! Aveva la rabbia! Aspetta cosa! Cosa mi hai fatto? Cattivo! Era sempre il più alto nella stanza! Oh my god! Io sono il più alto! No io! Non puoi essere più alto di me! Cattivo! La sua ultima evoluzione sarà la cosa più spaventosa che abbiate mai visto! Mostrami! Non posso! Ma posso spaventare? No! Mi hai spaventato! Ti caccio dalla scuola! Ah! Chi è il prossimo? Per favore non io! Vieni blu! Era disgustoso e le ragazze scappavano da lui! Ciao ragazze! Brutto! Tu! Smettila di spaventare le nostre studentesse! Cattivo! Il suo alito uccide le persone! Mostrami! Disgustoso! Non sa leggere! Il suo cervello è piccolissimo! Oh! King King King! Ah! Che cervello piccolo! Calcio! Ne sono rimasti solo due! È il più veloce della scuola! Fammi vedere! Ok! È davvero veloce! Bene! Mi piace a E! Grazie! I suoi voti sono FFFF e F! Bravo! Per questo motivo! Devo darvi un calcio! È diventato un bullo dopo essere stato vittima di bullismo! Oh no! È troppo! Calcio! Ultimo! Sembri un nerd! Mi dispiace! Ah! Fermati per favore! Era estremamente solo! Era estremamente stupido! Oh my god! Non piaceva a nessuno e non aveva amici! Calcio! Aspetta perché! E siamo chiusi! Il poliziotto sta dormendo! È ora di uscire! È vero! Chiave! Tempo di aprire! Sono scappato! Trova il mio adesso per favore! Ok! Oh no! Sta dormendo! Tornate indietro! Ma... Apri velocemente! Sì! Sono due rimasti! Non scapperai dal carcere! Oh no! Sta arrivando! Ehi! Ecco la chiave! Fermati adesso! Criminale! Ok calma! Ah! Ti ho preso! Salto di popcat! Ok! Usiamo! Ok! Dove è la mia chiave? Dove è la mia chiave? Ehm! Guarda nei luoghi! Bro! Usciamo! Ah! È tempo per il prossimo livello! Ok! Siamo grandi! Ma come possiamo ottenere la prossima evoluzione? Ehm! Cos'è questo? Se vuoi una nuova evoluzione devi raccogliere tutte le mascotte! Sono davvero difficili da trovare! In bocca al lupo! Aspetta un attimo! Aspetta cosa? È il momento di trovare tutte le mascotte! Vieni da papà! Ah! Sembrano strani! Oh! Ho dolore ma l'ho presa! OMG! Vogliamo questa evoluzione! Qui! Sono troppo grande! Un'ora dopo! Finalmente! Ok! Andiamo! Qui! L'ho preso! Oh! OMG! Oh mio Dio! La mia evoluzione è spaventosa! Oh mio Dio! Eccolo qui! Se vuoi combattere contro di me! Facile! Wow! Ok! Ho la sfida più difficile! Ah! Noob! Non hai l'evoluzione! Ah! Noob! Non hai l'evoluzione! Ah! Non hai l'evoluzione! Ehi! Fermati! Wow! Prendilo! Ehi! Prendilo! Mai! Come? Come? È facile! Salta semplicemente! Il giorno dopo! Creature selvagge stanno distruggendo Brookhaven R.P. Sì! La polizia dovrebbe fare qualcosa! Quindi non uscire! Ehi! Dovremmo divertirci sul parco giochi! Sivolo! Sei arrestato! Cosa? Il giorno dopo! Ok! È il momento di giudicarvi! Stava catturando le persone alle porte e poi le distruggeva! Stava schierando mostri dalle sue porte per uccidere le persone! Wow! Ha preso mille anni di carcere e poi è fuggito! Are you serious right now bro? Ok! Per me è disgustoso! Rosso! No per favore! Ah! È il tuo turno! OMG sei così grande! Erano controllati dal dottore! Sono fuggiti dal carcere trovando tutte le chiavi! Sono diventati da neonati a mutanti! Ok! Il mio verdetto è... Devi trovare l'amico rosso e distruggerlo per quello che ti ha fatto! Cosa? Grazie! Devo raggi partire! Oh my god! Ah! Ora ti cambia! Nononononono! C'è pronto a cambia? No! No per favore! Essi! Brr! Perchè c'è di così bassa qualità? Non voglio assomiglia raccesto! MMM ok! Ragazzi! Coni regolà tchè infrangè! Diventa più realistice! Oh no! Eh! Ok non diamo fratelli! Spero tchè sopravivrano a questo creator di costinio fratelli! Prima di tutoni ansparenti! Facciamolo! E ora di si vola! Spavento! Solo fatta! Aspetta! Cento qualcosa! Wow siamo più qualificati! Ora è il momento di affranger la prossima regola! C'è una persona invisibile! Dici sono le bozioni dell'invisibilità! Wow! Essi ragazzi! Eh si! Dobbiamo prenderlo in giro! Eh? Cento qualcosa subito! Eh? Smetila subito! Oh my god! Si abbiamo scopito il bullo! Cento la prossima evoluzione! Wow! Sombriamo amici arcobaleno del supermercato! Proxima regola! Non usare la si volo vicino al laca! Ciao possiamo entrar! No! 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 Essi! Fratello! Ok ragazzi adesso e il momento! Si! Wow questa è la mia scopo! Entra! Oh wow! Bella spanza! Aspetta! Ragazzi! Non si vola! Che cosa! Non ti sento! Cosa è successo! Ragazzi questo posto non è normale! Oh my god! Oh my god! Cosa abbiamo fatto? Ma abbiamo affrontato la prossima regola! Oh my god! Wow! Sombriamo così realistici! Cosa stanno facendo! Devo distruggerli! Proxima regola non si volare con 4 persone contemporanea! Ok non diamo! Siamo blocage! Ehi! Vatten back! Non possiamo! Faro una punizione perte! Noni! Tempo di si volare! Non ci fermi ti impedi rodi un frange dans le regol! Ah bene! Faro una ma abbiamo ancora evoluzione! Cosa sono più realistico! Ninchio! Oh my god! O.M.G. Il prossimo e non l'anciare Peschinella Piscina! O.S.Qualoki! Andiamo! Facile! Wow! Laifato di rosso! Si lo fato! Si lo fato! Eeeeeeeeh! O.M.G. Astiamo diventando più simili a per i Rainbow Friends! Rompiamo di più! Messina persona grassa che salta nel aca! Ok? Mettiamo del cibo! Abbastanza! Mangiamo! Odio! Wow! Ok sono pronto! Andiamo a salta! Non, controlla il tuo pezzo! Aaaaaaah! 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 Vediamo! Aaaaaaah! Odio troppo! Non ploi Andar! Lofaro! Ciao! Che cosa! Che cosa! Salto! A bel salto! Grazi ragazzi! Proxima evoluzione! Non arrivo! Noi assambriamo quasi Rainbow Friends ma senza colori! Fantastico! Infrangette la Proxima regola! Non bene! Abbiamo bisogno di più sicure! La Proxima regola è niente TNT si lo si volo! Ok lo TNT in diamant! Non è lo vedono! Butiamo lo! E mi sono perso in questo si volo! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Si lo fatto! Ehi! Olo! Ola si ami in case! Ola si ami in case! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ok, ce l'abbiamo fatta! Aaaaaah! Niante personale! Posso en bar! Controlla la tua Altesa! Bene! Il mio turno! Bene! C'est troppo alto! Forza verde! Sivola! Ola! 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 Ola regola affronta non si posso credere! Nuova evoluzione in arrivo! Ragazzi smettutla! Il mio capo si star a biando! Non si interessa! Abbiamo bisogno della Proxima evoluzione! Odio! Quest'o è così realistico! Odio questo è di più! Fantastico! Sambriamo tutti troppo belli! Non andarda la parte spagliata dello si volo! Ok e lo proviamo! Ha funzionato! Va bene e nella mia tra pola! Prendi l'eau a rancione! Va bene! Dove sono! Aspetta ci so accent grave di etro di me! Mi piace inscriviti prima di Jomscar! Vedo la fine! Odio! Odio! Il mio turno! Sì lofato! Sì lofato! Ne sono rimasti solo 5! Vediamo la Proxima evoluzione! Odio! Odio! Siamo così realistissi. E vero. Non preoccuparti, affrangeremo la prossima regola. Messa un fantasma nel parco Gioshi. Prossimo un diamo dentro. Eh sì, e inianta abiti da fantasma. Ok, allora guardami. E cosa? Spavanti amore alcuni bambini. Scatiamo da lui. Faro a jumpscar. Prossimo regola affronta. Facile. Ok, fatto perché non stiamo aggiornando. Rompiamo tutte le regole. E vedremo. Per vedere perché. Ok, nessina magia sullo si volo. Stiamo evo quando il fantasma. Si, vieni qui fantasma. Et troppo tempo per schirar mostri. Andiamo fantasmi. Per favore fantasmi. Ha funzionato. Corri rosso. E vedremo. Questo parco aquatico sembra brutto. Ma la prossima regola affronta. Poi non entra nel condotto. Ok, vediamo. E con il condotto. Andiamo. Oh no stano arrivando. Si sono salvo. Wow questo posto essi. Di regola rimasta. Nessun combattimento. E si. E i voi combattere. E. E i voi combattere. 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 andiamo a casa in silo se voi ottenere la prossima evoluzione devo valutarti era super bello sotto la machra aspetta fami veder vero bleu ogni ragazza vuola braxiarlo uscire da lui fa più male a tutti i hanno era così popola c'è iso a fan distrusso la sua casa aspetta cosa e si e lui vive e lui vive cosa sta succedendo questo è triste ma ancora una volta non è male stava mangiando ogni rinbo fri interesser in miglia ok prima male ma come un buono grazie wow c'è più realistico lui è bello sono brutto non c'è brutto vessula terra per ottenere l'ultima evoluzione prossima persona stava usando dal condotto si sposo aiuta grazie grazie mi hai salvato l'avita nessun problema bene calcuno ne l'avita real si è transformato in hyperigiorno dolcetto oscarcetto wow c'è ispirando i bambini bene nessuno la amato per tutta la sua vita aspetta mostramlo amo la scuola ciao nabu sono così triste ok questo è molto triste bene e brutto sotto la machra brutto sotto la machra va bene questo è molto triste ma non male fratello grazie questa è la sua facciane è la vita reale non c'è brutto prossimo mi dispiace perte tutti e lo prendo vanno in giro perché è alto fratello e lo prendo a punire ti stava no maltratando senza motivo steri se vando una punizione oh no no che cosa no stava cercando di ottenere l'ultima evoluzione diventa umano resta mostrami qu'elle evoluzione wow questo è strano da non realistico a realistico e diventato estremamente triste dopo che tutti hanno iniziato a odiarlo sto piangendo è così triste era altissimo massi e pompato è dei diventato fortissimo fantastico bene stava trasformando i bambini in giocatore e diventato mutando dopo aver belluto una apposione staglia e cativo e una apposione normale e n cos accent grave questo stava infrangendo tutte le regole del parco joshii per ottenere l'ultima evoluzione diventa reale di nuovo man il tuo passato non sembra buono quando ha giocato anascondino a ottenuto il suo posto fa bene male rosso ok il prossimo ragazzo rosso e diventato super realistico ma volva e servipio piu trasformarsi in civolo la sua evoluzione mutante era schifosa ok voglio veder la tua evoluzione quindy va buon fine il tuo volto della vita eh si va a trovare un evoluzione muti va bene per ottenere l'ultima evoluzione è necessario raccoblire tutti gli simboli noelofaro noelofaro ok il mio bel proprioli capitolo non sembra realistico sono stato trufato primaio no 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 nice kello di cui obisono perstar meglio sono pazesco ah è vero so volar questa è la mia evoluzione è finita era una storia strana bambini questo è il miglior parco giochi dell'universo venite a giocare è molto sicuro il nostro parco giochi è un grande fallimento edilizio guardate dobbiamo fermarlo non vi ascolterò ah 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 è ora di cambiare alcuni bambini il giorno successivo nella vita degli amici dell'arcobaleno devo scivolare su di esso stesso prima controlla la tua altezza perché questi bambini sono andati di senza non fare domande stupide sono il primo oh no non preoccuparti vai sei carina grazie spero di essere carina anch'io no non lo sei vai sullo scivolo per bambini forse qui troverò degli amici amiamo fortnite amiamo fortnite tempo per lo scivolo ho paura omg cosa è appena successo non scivolare cosa? ehi fermati qualcosa sta prendendo i bambini cosa? cosa? omg questo parco giochi non è normale ehi uscite tutti da questo parco giochi è infestato cosa? correte subito sicurezza portatelo via cosa? vai via ragazzo mai omg esci secondo tentativo dot mi ringrazia per questa voce fuori campo ok sono travestito ciao controlla la tua altezza ok nessun problema signore oh sono così vicino vai via noob sei troppo piccolo no secondo tentativo devo entrare cos'è questo posto? fammi entrare in questo posto si forza scivola più veloce ok aspetta morirai a bambino non può essere così ragazzi smettetela subito ah perdente hai paura di scivolare? facile aspetta cosa? non mi schioderò mai da questo stai perdendo nella nostra battaglia? mai wow questo scivolo mi ha fatto diventare alto e è magico cosa? come? ora giocherai al mio gioco ah ok facciamo un torneo la prossima diapositiva è questa per 10 dollari voglio 10 dollari puoi andare cosa? è appena morto signore chi ha fatto questo scivolo? non posso dire troppo buono ehi mio turno sei troppo piccolo a a una la prossima diapositiva è per 1000 dollari e si trova in paradiso cosa? siamo in paradiso? è 100 volte più alto del precedente prima io fermarsi controllare l'altezza ok lo farò puoi andare non mi sento così bene il mio turno no cosa? il mio turno entrambi non potete andare devo arrivare più in alto prima di mia sorella aspetta cos'è questo? saltami addosso oh wow sono diventata più alta ora su di me ok ah andiamo arriverò a questo scivolo come faccio a diventare più alto? guarda dietro di te andiamo facile sparagli prossimo salto non puoi vincere ok il prossimo è sospetto l'ho fatto l'ho fatto ah andiamo e l'ultimo salto grande salto si sei tornato? si sei a posto si sto bene anch'io ok ora puoi scivolare ho paura vai guardate abbonatevi o questo tizio sarà nel vostro bagno non rischiate ma sono vivo si oh my god ti sto dando un brutto voto era il criminale più pericoloso più di jeff l'assassino aspetta cosa oh no jeff cattivo ha costruito una base segreta sotto il parco giochi dov'è? fammi vedere ha catturato un amico viola e lo stava maltrattando non è possibile è vero? si vai in prigione per il resto della tua vita ah ora è il momento di controllare tutti coloro che hanno costruito questo parco giochi mi ha costretto a farlo ha preso i bambini dopo essere scivolati sul parco giochi quindi questo è il tuo posto? si balloon wow funziona male la sua famiglia era in ostaggio e lui doveva fare il suo lavoro altrimenti l'amico rosso li avrebbe distrutti non è possibile che abbia la tua famiglia si per favore fateci uscire per favore non è una cosa negativa mi dispiace tanto divenne estremamente triste e pianse tutti i giorni dopo che l'amico rosso lo catturò no non puoi perdere i tuoi colori non arrenderti bene ok ti lascerò uscire ma dimmi come sei diventato viola e molto molto triste ehi no dove è andato aspettare ciao giorgie ciao vieni qui cosa stai facendo lasciami in pace ti trasformerò in un amico viola no ora ti lascio qui no 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 100 anni dopo sono passati 100 anni devo uscire da qui corri ragazzo meriti di essere libero ne sono rimasti solo due perché stavi lavorando su quegli scivoli ho cercato di fermarlo era un costruttore del parco giochi e sapeva che era pericoloso stava cercando di fermare l'amico rosso ma l'ha trasformato in questo ok queste due cose sono sufficienti darti un sì grazie la sua famiglia lo odia dopo che è andato in prigione ok ti meriti di essere libero amico mio vai grazie l'ultimo famiglia dell'amico rosso era il mio ragazzo non io stavano aiutando l'amico rosso a prendere i bambini al parco giochi oh wow il ragazzo era estremamente cattivo come suo padre quindi ha cresciuto questo bambino perché fosse cattivo come lui smettila rosso oh no sono diventati tristi dopo essere finiti in prigione meritate di essere tristi no vai in prigione per favore no è stata una giornata molto produttiva yolo sono felice che il rosso sia andato in prigione riprendiamo il nostro torneo non so se è sicuro ma costa 10.000 dollari oh mio dio chi l'ha costruito? non è possibile non so nulla di questo scivolo chi ha costruito questo? ah è stato facile la mia schiena oh mio dio non è sicuro ma devo farlo chi l'ha messo qui? ma l'abbiamo fatto è il momento delle ultime scivolate la prossima scivolata è troppo pericolosa per te noob è per me mai oh mio dio forse è così vogliamo scivolare? andare aspetta chi stava facendo questi scivoli? non sembra sicuro scivolare ho paura oh no guarda è stato distrutto non scivolo da questo ti arrendi ah ah bien ok fallo prima facile non mi sento così bene oh mio dio non so se è viva ma fammi provare sono ancora vivo ok la prossima diapositiva è super pericolosa solo L1% sopravvive su questo scivolo ok vado io per primo andiamo ce l'ho fatta oh mio dio non posso crederti ok tocca a me Jenna no è a morta perché abbiamo iniziato tutto questo? aspetta non riesco a vedere ti unirai a lei no sono morta anch'io oh mio dio dove sono? dimmi sei morto ora devi votare queste persone per tornare sulla terra chi è il primo? Adamo sì stava diventando troppo forte ah smetti di sollevare sei troppo grande male ha fatto il braccio di ferro con un superman oh my god e chi ha vinto? oh mio dio ok ho capito chi ha vinto ma il combattimento è brutto rosso aveva il potere di cambiare il suo corpo wow che figata ma comunque non puoi essere bravo il prossimo io sono Benten wow ho guardato il tuo show quando ero giovane buono si trasformava in un mostro diverso ogni volta che toccava l'orologio aspetta questo orologio? sì questa evoluzione è strana unne lasciami cambiare che cos'è? il suo orologio si è guastato e lo ha trasformato accidentalmente in pibi era bloccato nel corpo di pibi per tutta la vita ok non sei una persona cattiva vai verso il bene aveva cento figli e mancava il poliziotto aspetta cosa? cento? questo è mio figlio ah questo è troppo figli amava mangiare le ciambelle lo adoro non posso biasimarti voleva distruggere il paradiso smettila di distruggere il paradiso stai andando male ah è stato facile il prossimo F padre stava picchiando F figlio oh no non mi piace perché? papà fermati omg hai visto questo? brutto stavano mangiando alfabeto a cena anche questo è brutto mamma e figlio avevano paura del padre perché si arrabbiava molto velocemente non meriti il paradiso andate via grazie ok sono tornato sulla terra ma ora devo vindicarmi ehi so che sei stato tu a fare tutto questo ah ah facciamo l'accordo quale accordo? M certo scivola qui se perdi andrai in prigione per sempre ma se perdo io potrai trasformarmi in un amico arcobaleno affare figlio prova prima ho paura ehi troppo veloce non è sopravvissuto il tuo turno cosa? ai ce l'ho fatta omg ora controlliamo come lo fa Red come ha fatto? tocca a me andiamo è esploso così Bluecaven sta tornando alla normalità vecchi amici arcobaleno sono noiosi abbiamo bisogno di qualcosa come loro bambini entrate wow sono il primo ciano o rosso due occhi o uno due ovviamente bello testa di banana o normale wow prossimo denti o un dente un sacco di denti bello scia blu o nessuna scia lingua lunga o cuore cosa? dovrebbe essere lungo blu e l'ultimo coda o spine coda usciamo sono il prossimo gambe o ali ali wow occhiali da sole o occhi occhi ovviamente che diavolo prossimo elica di elicottero o la cosa elica wow testa di uomo o testa di gecko gecko wow giallo o rosa giallo wow sono giallo sono il prossimo cosa diventerò sedia del re wow sono il re corona o cappello smetti di cappello solo corona un occhio o caramella prossimo nubo o acqua dalla bocca acqua ok e prossimo blu o cacca blu sono pronto sono il prossimo gambe da ragazza o dottore gambe da dottore figo cosa è questo? sto scegliendo questo figo testa rossa o faccia felice testa rossa bru non posso vedere non ho occhi wow prossimo cravatta o scarpe cravatta pistola o questa cosa questo ok andiamo sono il prossimo ratto o testa testa bello seconda testa o uccello omg testa o cacca terza testa quarta testa wow e ora occhio colorato entrambi bello e ora gli occhi bello e l'ultimo carrello sono il prossimo dottore capelli bianchi o normali bello barba o barba questo bello occhiali o no occhiali camicia oddio mancano solo i pantaloni sono pronto ok sono il prossimo verde denti o dente dente forse denti lingua o no lingua occhi piccoli o grandi questa trama verde e corpo lungo occhi grandi o piccoli grandi ovviamente prossimo viola o giallo viola braccia lunghe o corte lunghe wow gambe lunghe o corte lunghe wow molti denti o un dente molti wow sono perfetto sono l'ultimo e ero nel capitolo 2 quindi prima testa di gecko o cane gecko cos'è questo occhi grandi coda verde o arancione 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 o viola arancione pelo arancione e ultimo grandi denti wow ok siete tutti pronti e ora facciamo fuori alcuni di voi baby blue il prossimo giallo ma vecchio teste nel carrello sapete una cosa è ora del mio preferito è ora per l'amico rosso prossimo amico arancione giallo ok ora è il momento per i ragazzi più grandi blu sulla sedia wow quindi ora viola sei così alto oh my god fa male e l'ultimo verde non mi piaci tu e tu ma tutti voi andate al capitolo 2 aspetta tu e la tua squadra siete arrestati e ora sarete tutti valutati iniziamo con te omg prima di essere ciano è arancione ma l'amico rosso lo ha cambiato ah cambiamo te bello questo è buono per me ha mangiato l'amico verde e poi lo ha vomitato giorno normale negli amici arcopalino ah ho fame per favore no giorno dopo gli amici arcopalino lo hanno spaventato ma lui li ha distrutti non puoi scappare ora per vento ah ora cosa non ho sentito nulla omg hanno un lato così forte devi essere spaventoso ti stava inseguendo sul gokart la sua nascita alla morte è stata molto triste ok era strano stava cacando ovunque sulla mappa ed era disgustoso cosa sta succedendo sto solo facendo la cacca aveva una famiglia che lo aiutava mostrami la tua famiglia guarda dietro di te dolce per me sei una brava persona e vai al bene lanciava persone da un'altezza di 100 metri dal suolo non saltare finché non trovi un posto sicuro dove atterrare wow è stato molto brutto aveva dei bambini nel suo nido che erano suoi figli wow penso che sia il momento i miei bellissimi bambini può gliciare e portarti fuori dalla mappa al nuovo capitolo ha rapito tutti gli amici arcobaleno nel suo nido e li ha mangiati aspetta cosa cosa stanno facendo bru distruggiamoli ah facile che diavolo porta i giocatori nel suo nido e li spaventa wow bello spavento ma sei cattivo dovevi raccoglierli tutti ma poi hanno creato un nuovo mostro siete tutti raccolti quindi cambia il mostro ok che diavolo stavano diventando ultra grandi e volevano cambiare la città aspetta che cos'è questo omg questa è un apocalisse erano ovunque e non potevi muoverti per me sei la peggiore persona ciao ora per il prossimo era una persona normale ma lo hanno cambiato wow era la tua vera faccia è stato trasformato in un supereroe e ha iniziato a combattere con il giardino di Bambam ragazzi mettete mi piace e iscrivetevi e vi sveglierete con uno miliardo di rocks c'è successo più di quanto sia successo nella mia intera vita si è seduto sulla sedia del re e ha fatto risorgere un esercito di amici blu siete il mio esercito conquisteremo il mondo wow incredibile si è seduto sulla sedia del re ed è morto perché era inutile sono il messai buono ha trasformato i bambini in amici arcobaleno prima di diventare un mostro omg bro questo è male si è accidentalmente trasformato in un mostro che diavolo ha mostrato le facce di ogni nuovo e vecchio amico arcobaleno e tutti l'hanno vista ok vediamo il tuo volto no per favore cosa? bello prossimo arancione prossimo blu ancora prossimo verde vediamo cielo spezia pensavi che ti stessi sentendo prossimo rosso ruscello perché? stavo solo facendo un video prossimo tante teste cosa? nonno eri teste per tutto questo tempo allora prossimo viola amico kaichenat ti ama amico rosa e ultimo ma non meno importante ok prossimo ha rubato i colori da ogni ragazza amica arcobaleno la sua ragazza ha perso i suoi colori e lui ha sacrificato i suoi colori per salvarla omg era bellissimo rosso vai al bene prossimo quando era più giovane non poteva smettere di crescere nel sonno e poi si è trasformato in un amico viola buonanotte figlio buonanotte mamma non mi sento molto bene figlio cosa sta succedendo omg wow eri un bambino strano ma va bene era nel condotto dell'aria ma qualcuno lo ha rubato e cambiato omg spaventoso dopo il cambiamento stava catturando persone dall'acqua nel nuovo capitolo wow è figo qualcuno lo ha messo nel water ed era bloccato lì che diavolo dopo che un ragazzo lo ha aiutato è diventato famoso wow bene per loro aveva braccia così lunghe che rapiva le persone dall'altra parte della mappa questa è un'abilità molto buona per me sei buono aspetta dove è il prossimo vediamo cosa hai fatto ti faceva prendere un colpo di paura quando andavi nella direzione sbagliata in carta wow ok prossimo ha creato una stanza segreta nel pavimento aspetta quale stanza segreta ha installato hack ed era troppo veloce sono troppo lento ho bisogno di girare hack ha mangiato i due tutti hanno visto quello hai mangiato i due cosa grazie per avermi ricordato che è ora di cena era male mangiava troppo ed è esploso questo cibo è così buono aspetta non mi sento così bene per me sei una persona cattiva mi dispiace prossimo è diventato troppo grande ed era più grande della mappa cos'era questo omg ha distrutto accidentalmente la ruota panoramica wow bella ruota wow questa è accesa la sua danza era accesa mostrami ha scaricato hack ed era troppo alto ok bro non tutto andava bene ma nel complesso sei una buona persona ok prossimo nonno era il papà degli amici arcobaleno ha preso un colpo in testa e si è incastrato sulle montagne mosse wow era una buona scena l'amico giallo lo ha portato nel suo nido e ha cercato di mangiarlo ma il nonno lo ha ucciso l'amico giallo mi ha rapito qui è ora di vendicarsi va bene e mi sei un buon nonno ok ora per il prossimo tamataki stava giocando con gli amici arcobaleno ed è stato preso dal giallo omg sei un originale ha provato a spaventare gli amici arcobaleno ma ha avuto uno spavento e è morto ti ucciderò vieni ah prendi la L facile è stato tagliato a metà dall'amico rosso e poi gli ha aggiunto una nuova testa tamataki sei troppo dolce andare al bene si sono uniti agli amici arcobaleno e hanno avuto un colpo di paura omg strano sono tutti morti a causa loro hanno fatto una lotta di spaventi di spaventi e il giardino di bambana è morto ok ragazzi gli amici arcobaleno sono migliori mi dispiace e penso che l'ultimo sia qui wow box omg erano bambini che cantavano prima ma si sono trasformati in mostri ah questi ragazzi sono incredibili ora li cambierò hanno iniziato a cantare una canzone che ha distrutto gli amici arcobaleno ok ragazzi è stato fantastico grazie e buy al bene ed è tutto grazie per aver guardato ragazzi e ci vediamo alla prossima grazie a tutti